Nel mondo dell'animazione, un fenomeno epico si prepara a scatenare la sua tela attraverso lo schermo, Spider-Man, Akros de Spider-Verse. Il sequel altamente atteso del capolavoro Un nuovo universo sta per gettare le sue linee multiversali, portandogli appassionati in un viaggio senza precedenti. Secondo quanto riportato da Deadline, l'emozionante script di questo nuovo capitolo è finalmente disponibile online, alimentando il fervore dei fan che bramano immergersi ancora una volta nell'universo di Miles Morales, lo Spider-Man di Brooklyn. Diretto dal trio di talentuosi registi Joaquim Dos Santos, Camp Powers e Justin K. Thompson, questo sequel promette di superare ogni aspettativa. La trama ci catapulta in un vortice multiversale, dove Miles si unisce a Gwen stessi per un'avventura che attraverserà realtà parallele e incontri sorprendenti con una squadra di Spider-People. Tuttavia, il conflitto emerge quando i difensori dell'universo si scontrano sul modo migliore per affrontare la nuova minaccia di nome Spot. In questo caos interdimensionale, Miles è chiamato non solo a confrontarsi con gli altri Spy Day, ma anche a ridefinire il significato stesso di eroismo per salvare coloro che ama. L'attesa sta per giungere al termine per i fan, poiché tra soli due giorni il film sarà disponibile in streaming su prime video, regalando emozioni e avventure agli amanti dell'uomo ragno di tutte le età. Parlando del film, il produttore Phil Lord ha condiviso le ambizioni dietro questo progetto straordinario, quando il tuo brand è sorpresa e innovazione significa che devi ricominciare tutto da capo perché non puoi tornare indietro. Queste parole risuonano nel cuore di un'opera che cerca costantemente di superare se stessa, di spingersi oltre i confini dell'animazione e della narrazione per offrire qualcosa di straordinario al pubblico. Lord ha continuato a sottolineare l'importanza di approfondire le relazioni dei personaggi e rendere il film un'esperienza emotiva completa. Questa ricerca di un legame autentico e di una profondità emotiva potrebbe essere la chiave per rendere questo capitolo non solo uno spettacolo visivo mozzafiato, ma anche un viaggio toccante attraverso le vite dei suoi eroi. Con un mix di emozioni, azione strabiliante e la promessa di esplorare nuove dimensioni dell'eroismo, Spider-Man, Akros the Spider-Verse, si prepara a catturare l'immaginazione e i cuori di tutti coloro desiderosi di immergersi in questo affascinante universo multiversale.